Un nuovo BATS è pronto. Foto immersiva per un flacone di gel all'aloe vera. Prodotto non simmetrico che ricorda una foglia. Colore verde, ci possiamo lavorare. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Luca e sono un imprenditore digitale che dà vita ad idee alternative per il business, per aziende che non vogliono mai passare inosservate. Condatore anche di questa piccola rubrica che ci porta dietro le quinte di qualche lavoro digital. L'ANGA BATS. Quindi acclimatiamoci in un ambiente verde, con qualche spruzzo di acqua, una luce bella netta e un odore di freschezza. Allora, battiamo? Foto! Grazie.